Andiamo e chiudiamo con il segno dei pesci, ancora un periodo magico per quanto vi riguarda, questa è una luna che vi permette anche di vederci chiaro in alcune situazioni legali, burocratiche che magari vi preoccupano, quindi qualcosa che si sblocca, una buona notizia sotto questo punto di vista, ma una luna anche estremamente passionale, la passione e l'amore sono la fonte maggiore di gioie e di emozioni in questo momento per voi. Bene amici,